L'Isola del Tesoro di Robert L. Stevenson. Capitolo 12. Consiglio di guerra. Il ponte si popolò tutto di passi. Sentì gente correre in coperta dalla saletta e dagli alloggi dei marinai. Sgattaiolando lestamente dal barile, mi tuffai dietro la vela di trinchetto. Mi diressi di gran corsa verso Poppa e spuntai sul ponte scoperto in tempo per unirmi ad Hunter e al dottor Livesey, che si stavano precipitando a prua, verso il lato sopravvento. L'intero equipaggio si era già radunato in quel punto. Quasi nello stesso istante in cui era apparsa la luna si era alzato un anello di nebbia. Laggiù, verso sud-ovest, si vedevano due colline distanti tra loro circa due miglia e dietro una di esse, una terza, che si levava più alta e la cui sommità era ancora avvolta nella nebbia. Apparivano tutte e tre guzze e di forma conica. Vedevo tutto ciò come in un sogno. Non mi ero infatti ancora ripreso dal terribile spavento di pochi minuti prima. Udì poi la voce del capitano Smollett in partire degli ordini. La spagnola fu disposta di un paio di quarte più al vento, in modo da seguire una rotta che le avrebbe permesso di scapolare l'isola da Levante. E ora, uomini, disse il capitano una volta tessate tutte le vele, qualcuno di voi ha mai visto la terra che si trova davanti a noi? Io, signore, disse Silver, abbiamo fatto rifornimento d'acqua lì con un mercantile su cui facevo il cuoco. Mi sembra che la rada sia a sud, dietro un isolotto, disse il capitano. Sì, signore, la chiamano l'isola dello scheletro. Un tempo era un posto molto noto tra i pirati e un marinaio che avevamo a bordo conosceva tutti i nomi che gli avevano dato. Quella collina nord si chiama Colle Trinchetto. Ci sono tre colline in fila da nord verso sud. Trinchetto, Maestra e Mezzana. Signore, ma quella di Maestra, quella grossa con la nuvola sopra, di solito la chiamano al cannocchiale per via di un posto di vedetta che tenevano lì quando facevano pulizia nella baia. Perché, col vostro permesso, è lì che pulivano le loro navi. Ho qui una carta, disse capitano Smollett. Guarda se è questo il posto. Nel prendere in mano la carta a Long John, gli occhi quasi schizzarono dalle orbite, ma dall'aspetto nuovo del foglio capì che era destinato a restare deluso. Questa non era la mappa che avevamo trovato nella cassa di Billy Bones, ma una copia accurata, completa in tutto, nomi, altitudini e fondali, con la sola eccezione delle croci rosse e dell'annotazione a penna. Il disappunto di Silver doveva essere ben profondo, anche se lui ebbe l'accortezza di celarlo. Sì, signore, disse. Il posto è questo, non c'è dubbio, è molto ben disegnato. Mi chiedo chi possa essere stato a farlo. Non certi pirati, immagino, troppo ignoranti. Sì, eccolo, Rada del Cap Kid, proprio nome che usava il mio compagno. Lungo la costa meridionale c'è una corrente molto forte che poi risale verso nord lungo la costa occidentale. Avete fatto bene, signore, disse, a stringere il vento e tenervi a sopravvento dell'isola. Almeno, se la vostra intenzione è di entrare e carenare. Non esiste posto migliore di queste acque. Grazie, marinaio, dice il Capitano Smollett. Più tardi ti chiederò di darci una mano. Ora puoi andare. La tranquillità con cui John ammise apertamente di conoscere l'isola mi lasciò di stucco. E, ammetto che quando lo vidi venire verso di me, provei una certa paura. Sicuramente non sapeva che da dentro il barile delle mele aveva assistito al suo conciliabolo. Ma ormai provavo un tale orrore per la sua crudeltà e la doppiezza, oltre che per il suo potere, che a stento riuscì a trattenere un brivido quando mi posò la mano sul braccio. Ah, fa lui, per un ragazzo quest'isola è un posticino ideale su cui sbarcare. Davvero un posticino ideale. Potrai fare il bagno, arrampicarti sugli alberi e andare a caccia di capre. Vedrai e ti arrampicherai anche tu come una capra su per quelle montagne. Eh, mi fa sentire di nuovo giovane. A momenti dimenticavo la mia gamba di legno. È bello essere giovani e avere tutte e dieci le dita dei piedi. Ci puoi giurare. Quando vorrei andartene a fare un po' di esplorazioni, basta che lo dici a vecchio John e lui ti prepara uno spuntino da portarti dietro. E dandomi la più amichevole pacca sulle spalla, che si possa immaginare, si diresse zoppicando verso prua e scese sotto coperta. Il capitano Smollett, il cavaliere e il dottor Livesey stavano insieme a parlare sul casseretto. Ero ansioso di raccontare loro la mia storia, ma non usavo interromperli così davanti a tutti. Mentre mi arrovellavo il cervello per trovare una scusa credibile, il dottor Livesey mi chiese di avvicinarmi. Aveva lasciato sotto coperta la pippa ed, essendo schiavo del tabacco, voleva che andassi a prendergliela. Appena fui abbastanza vicino per parlargli, senza farmi sentire, «Dottore», dissi, «devo parlarvi. Scendete col capitano e il cavaliere giù in saletta e poi ho trovato un motivo per mandarmi a chiamare. Ho delle notizie terribili». L'espressione sul voto del dottore cambiò leggermente, ma un secondo dopo era di nuovo padrone di sé. «Grazie, Jim», disse ad alta voce. «Era solo questo che volevo sapere. Come se mi avesse fatto una domanda». E così dicendo girò sui tacchi e tornò dagli altri due. Seguì un conciliabolo durante il quale nessuno di loro trassalì o alzò la voce o fischiò o altro. Era chiaro che il dottor Livesey aveva comunicato loro la mia richiesta. La prima cosa che udì fu infatti il capitano che dava un ordine a Job Anderson. Dopodiché tutti gli uomini vennero chiamati in coperta. «Ragazzi miei», disse il capitano Smollett, «ho una cosa da dirvi. Quella terra che abbiamo avvistato è il luogo dove eravamo diretti. Il signor Trilony, essendo, come tutti sappiamo, un gentiluomo oltremodo generoso, mi ha appena chiesto una o due cose. E, avendogli potuto dire che tutti gli uomini a bordo hanno fatto suo dovere, in coperta e sotto coperta, come meglio non avrei potuto aspettarmi, «Ecco, io, lui e il dottore, scendiamo nella saletta e faremo un brindisi alla vostra salute e fortuna. E a voi sarà distribuito del grog perché brindiate alla nostra salute e fortuna. Vi dirò cosa ne penso io. Penso che sia un'idea molto bella e se lo pensate anche voi, farete un bello urrà da marinai per il gentiluomo che l'ha proposto». Seguì ovviamente un urrà, ma risuonò così sonoro e caloroso che, lo confesso, stentai a credere che proprio questi uomini stessero tramando per farci la pelle. «Un altro urrà per il capitano Smollett!» gridò Long John, quando il primo si era spento. E anche a questo si unirono tutti con entusiasmo. Subito dopo i tre gentiluomini scesero sotto coperta ed illi a poco giunse a prora la voce che Jim Hawkins era stato convocato nella saletta. Lì trovai tutti e tre seduti attorno al tavolo, davanti a una bottiglia di vino spagnolo e un po' di uvetta e il dottore con la parrucca sulle ginocchia intenta a fumare. Segno, lo sapevamo bene, che era agitato. Era una notte calda, la finestra di poppa era aperta e dietro di noi si poteva vedere la luna risplendere sulle scia della nave. «Allora, Hawkins!» disse il cavaliere. «Avevi qualcosa da dire?» «Parla!» Feci dunque come mi era stato ordinato cercando di non dilungarmi troppo. Raccontai per filo e per segno la conversazione di Silver. Nessuno mi interruppe fino a quando non ebbi finito n'alcuno fece il minimo movimento. Ma tutti e tre tennero dall'inizio alla fine lo sguardo fisso sul mio viso. «Jim!» disse il dottor Livesey. «Siediti!» Mi fecero sedere a tavola con loro, mi versarono un bicchiere di vino, mi riempirono le mani di uvetta, e tutti e tre, uno dopo l'altro, ciascuno con un inchino, bevero la mia salute, dichiarandosi riconoscenti per la mia fortuna e il mio coraggio. «Allora, Capitano!» disse il cavaliere. «Voi avevate ragione e io avevo torto. Riconosco di essere stato un somaro e mi rimetto ai vostri ordini.» «Il più somaro sono io», riplicò il Capitano. «Non ho mai sentito di una ciurma che sia sul punto di ammutinarsi e non lasciarsi trapelare nulla. Di solito, chiunque abbia occhi per vedere, riesce ad accorgersi dei guai in arrivo e può prendere provvedimenti adeguati. Ma questa ciurma, aggiunse, me l'ha fatta.» «Capitano!» disse il dottore. «Con vostro permesso, questa è opera di Silver, un uomo veramente considerevole. Lo considero più degno di penzolare dalla varea di un pennone, signore.» ribatte il Capitano. «Ma queste sono chiacchiere e non ci portano da nessuna parte. Vedo tre o quattro punti e con il permesso del signor Ciloni voglio elencarli.» «Voi, signore, siete il Capitano. Aspetta a voi parlare!» disse il signor Ciloni. Signore in mente. «Punto primo», cominciò il signor Smollett. «Dobbiamo proseguire, perché non possiamo tornare indietro. Se dessi l'ordine di virare di bordo, si ribellerebbero all'istante. Punto secondo, abbiamo ancora tempo, almeno, fino a quando non troviamo il tesoro. Punto terzo, ci sono dei marinai fedeli. Ora, signore, prima o poi bisognerà arrivare a menare le mani. La mia proposta è di prendere il toro per le corna, come dice il proverbio, e menare noi per primi quando meno se lo aspettano. Possiamo contare, immagino, sui vostri servitori. Non è vero, signor Ciloni? «Come su me stesso», dichiarò il Cavaliere. «Tre», calcolò il Capitano. «Con noi fanno sette, cotando Hawkins qui. Ora, per quanto riguarda i marinai onesti, la cosa più probabile è che si tratti degli uomini di Ciloni», disse il Dottore, «quelli che ha scelto lui, prima di incappare in Silver». «No», replicò il Cavaliere, «Hands era uno dei miei». «Avevo creduto di potermi fidare di Hans», disse il Capitano, «e pensare che sono tutti inglesi», sbottò il Cavaliere. «Signore, mi viene voglia di farla saltare in aria, questa nave». «Va bene, signori», disse il Capitano, «non ho molto altro da aggiungere. Se permettete, mettiamoci alla cappa e teniamo gli occhi ben aperti. Per un uomo è dura, lo so. Ci sarebbe più gusto menare le mani, ma non c'è niente da fare, fino a quando non sapremo quali sono i nostri uomini. Mettiamoci alla cappa ad aspettare il vento. Ecco come la vedo io». «Jim, qui», disse il Dottore, «può aiutarci meglio di chiunque altro. Gli uomini si fidano di lui e lui ha spirito d'osservazione». «Hawkins, ho in te fiducia prodigiosa», aggiunse il Cavaliere. A questo punto cominciai veramente a disperare, perché mi sentivo completamente impotente. Tuttavia, per una strana serie di circostanze, fu effettivamente grazie a me che ci salvammo. Nel frattempo, c'era poco da dire, su ventisei a bordo potevamo contare solo su sette, e di questi sette, uno era un ragazzino, così che dalla nostra parte c'erano sei adulti contro diciannove dall'altra. Grazie. 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 Grazie.